Io aggressivo, ma amici miei non sono affatto aggressivo, ho semplicemente iniziato un anno con molta determinazione, sono assolutamente stufo di tutte queste meline, di tutti questi qui, 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 qua, qui, qua, io vado avanti per la mia strada come ho detto in un video nei giorni precedenti e allora non sopporterò assolutamente più tutti quegli autori aspiranti tali i quali ti mandano delle email come ha fatto l'altro giorno una persona dicendo ho un romanzo da parte, ve lo posso mandare per pubblicarlo, ma sì caro, noi siamo dei salumieri, non siamo degli editori, che cosa vuoi? Vuoi che ti dica quanto costa pubblicarlo? Io non te lo dirò mai perché io pubblico dei romanzi o qualsiasi altro ebook non a pagamento, vai, vai dalle centinaia di altri editori o pseudo tali i quali ti promettono Mario e Monti e poi innanzitutto incassano i soldi che tu gli paghi. In ogni modo ragazzi miei non è più la stagione delle meline, è la stagione del fare, come dice qualcuno, è proprio la stagione del fare e io faccio, vedrete, faccio e farò sempre.